Siamo dati Gesù e Maria, la liturgia di questa ventiduesima domenica del tempo ordinario, il tema molto importante, fondativo, essenziale della nostra santa fede cattolica, che è il tema della croce, il vertice del Vangelo, ma lo stesso tema è anche affrontato nella seconda lettura sotto una prospettiva e sfaccettatura differente ed anche nell'aprino, ci sono, diciamo così, tre prismi che illuminano questo mistero fondamentale della nostra fede e devo dire che il Signore vuole che faccia in questa domenica, quello che devo sentire la tutela e io le disse, cercherò di prendere ciascuna delle letture e di mostrare il suo aspetto meridionale. Ovviamente cominciamo dal Vangelo perché il Vangelo da proprio in là ha questa grandissima sinfonia. Il contesto del Vangelo, tenete presente, se vi ricordate, come di la scorsa, San Pietro è salito sul suo trono, professa la fede, Gesù, tu sei il figlio di Oivente, abbiamo fatto una media sul Papa la mia scorsa, Beale, Simone, tu sei Pietro, le chiavi del Pino di Cielo, tutto ciò che legherai, tutto ciò che studierai, la Chiesa non potrà essere distrutta delle potenze degli inferi perché io la fondo sulla roccia che tu sei e ti garantisco di essere sempre vicino. Come si dice nel poverbio popolare? Dalle stelle? Perché subito dopo, cioè, il Vangelo che stiamo ascoltando è così, cioè, questo episodio, dove Pietro si becca una risposta ben differente da tu sei dietro, accade immediatamente dopo, subito. Cioè, è questione di forse di qualche minuto, forse di un'oretta del contesto, è identico, d'accordo? Il Vangelo si aprono in quel tempo, perché, capite, il Vangelo si viene a dire così, ma Gesù finisce di parlare, e le porte liate, e tutto quello che era sulla terra si era sciolto, eccetera, 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 appunto. Allora Gesù comincia a dire apertamente, cioè, il testo letterale, per cui non posso dire così, è proprio legato, fa parte dello stesso cammino. Prima domanda, Gesù dice queste cose, e poi sentite bene, cioè, Pietro gli ha detto, tu sei Dio, d'accordo? Allora, dobbiamo sempre ritornare su questa affermazione, no? Se ci crediamo, però no. Subito dopo, gli dici, bene, io sono Dio, giusto? Allora, Dio, io, devo andare a Gerusalemme, devo soffrire molto, da parte degli anziani, venire ucciso. Domanda, voi che avreste fatto? Cioè, è chiaro che uno non avrebbe dovuto pensare, attenzione, chi sta parlando è Dio, quindi, proprio perché è Dio, fammi notare fino a dieci prima di rispondere, no? Ma la reazione prima, qual è? Non è questa. Ah, se tu sei Dio, vai a morire in croce, ma che stai spezzando? E infatti i San Pietro, per amore di Gesù, e anche, per un certo senso, all'inteso però della divinità, della sua amura divina, dice, ma signora Dio, alla volta che esiste proprio, Dio te ne scappa, signore, questo non ti accadrà, ma... Io confesso, nella mia buchezza, che molto probabilmente, avrei risposto parole analoghe, non mi vergogno, insomma, adesso, come adesso mi viene da pensare che so come la fine della storia, non farei, ma a caldo, così in diretta, chi avrebbe risposto diversamente da questo? E cosa contro quante Gesù? Perché, venendo meno anche la sua consueta, come dire, delicatezza, dolcezza, lungi da me, Satana. Lo chiamo Satana. E gli dice, tu mi sei di scandalo. Sapete, scandalo, scandalo è un termine forte, eh? Cioè, tu mi scandali, tu mi imperisci di fare quello che ti vuole, questo divino tipologico, scandalo, in greco, scandalo, non significa pietra di inciampo, cioè, avete visto, tu mi stai mettendo un piedino, mi stai facendo uno scambetto e di imperirmi di fare quello che ti vuole, di farmi puzzolare per terra, con questa frase che dici. E poi ti lo spiego perché? Perché non pensi secondo Dio, ma secondo Dio. Quindi, prima cosa che dobbiamo metterci bene in testa, alla luce di queste impressionanti parole di Gesù, è che, se io mi scandalizzo della croce, e questo è successo a San Pietro, cioè, vuol dire che io sono Satana. Ha detto Gesù, lo dico io. E sono Satana in quanto incambio il modo di pensare del mondo, e non di Dio. Io ho detto tante volte, ho visto questo crocefisso bellissimo qui dentro. Io la prima volta, più o meno in questi giorni, lo scorso anno, si sta a prendere pubblica la modizia, io c'ho circa verso metà settembre, vieni a fare un sopravluogo. Ho entrato in chiesa, ho visto questo crocefisso, e dico, vedo lo stacco qua dentro, per un po' di tempo. basterebbe soltanto il crocefisso, che è bellissimo, d'accordo? Però questo crocefisso ci mette anche dinanzi, in maniera molto bella, alla sofferenza, come di realistica di Gesù. Questo è stato fatto da un francescano, questo è proprio francescano, perché i francescani non facevano i crocefissi iniziali o in torati, vogliono proprio che noi potessimo sulle sofferenze della stessissima umanità di Gesù, quindi, questo crocefisso bellissimo, che Don Giuseppe, che ci subito mi ha dato, guardate, attento eh, questo è Gesù ancora vivo, fa attenzione dove c'è, la bianca della lancia nel cuore, e si vede anche da un punto, no, che Gesù sta soffrendo, è un punto bellissimo, serenamente sofferente, ma molto sofferente. Quindi, e Gesù dice, attenzione, questo non è solo per me, questo è per tutti, perché subito dopo, aggiunge, sta parlando di scevoli, non sta parlando ai bagai di peccatori lontani, cioè sta parlando al gruppo dei dodici, a quelli che gli stavano vicini, che erano già lasciati tutto per Gesù, eh, quindi non a quelli lontani, di questo che noi dobbiamo sentire rivolti a noi queste parole. Guardate, se qualcuno vuole venire dietro di me, quindi vuole essere mio discepolo, vuole essere mio amico, deve rinnegare se stesso, adesso per non si divina, deve prendere la croce, lui, e seguirli, perché non c'è altra via di salvezza, non c'è. Domanda, e come ormai non c'è altra via di salvezza? E voi, se Dio è contento che noi soffriamo, è una domanda da Cursi, no? Secondo voi, secondo me, Dio è contento che era contento quando vedeva suo figlio, perché quello è suo figlio, in queste condizioni, era contento? e perché la croce? Allora, qui ci scelgiamo tutti quanti, però la croce è uno dei distintivi della nostra fede, il nostro rapporto con la croce, cos'è la croce, anzitutto? La croce è una cosa molto, molto semplice, la croce è tutto ciò che ti riesce doloroso e disturbante, a partire, per esempio, dalle cose più necessarie, dai piccoli sacrifici e gli estipere sempre potessi fare delle azioni, faccio una domanda, secondo voi, è più facile il vizio o la virtù? Domanda, se fosse più facile la virtù, saremmo tutti santi canonizzati, invece la Chiesa prima di canonizzare qualcuno di un processo che non finisce male, perché vivere secondo virtù e vivere la virtù in grado erotico non è così, è facile, no? E secondo voi, abbracciare una vita di santità, quindi di sequela di Gesù, non è ipso fatto di un romano abbracciare la croce, perché devi andare incontro una serie di denti, non ci piccoli, grazie, e le prime necessarie che il Signore ci mette dinanzi, qua di sotto, dici comandamenti, che tali sono e tali resteranno sempre e per tutti, questa è una dimensione necessaria della croce, è chiaro che loro i comandamenti esicono da noi un sacrificio per essere osservati, piccolo magari, vedete il terzo comandamento, andammi sera domenica, a me oggi non mi va, poi andammi a fare gli affari miei, sono stanco, d'accordo? E tu c'hai questo martello, perché quello è un comandamento, d'accordo? È un altro discorso che io non vado a tirare, che i paroci non vanno a tirare per il collo le persone a portare in chiesa per forza, ma quello è un comandamento, capite? Tutte le persone che non vanno in chiesa devono rispondere a Dio nella osservanza del terzo comandamento e io non ci posso fare niente, capite? Posso non tanto pregare per loro, basta, capite? Non è il comandamento del Papa o del Papa o del Vescovo, i comandamenti sono di Dio, capite? il sesto comandamento oggi un po' in crisi non commette reati impuri non ci sono dispense da quel comandamento non ci sono ricondizioni sessuali non c'è niente, non c'è, capite? Quello, bisogna rispondere è chiaro che cosa è più facile vivere in maniera libertina disinvolta fare quello che ci pare nella gestione del nostro corpo della nostra vita sessuale o è più difficile stare in regia di Dio? Niente di solito a fuori del patrimonio che rispetto sempre e comunque del nostro corpo e della nostra santità è evidente che è più difficile è più facile l'estate quando si muore di caldo conservare un decoro oppure dire se non mi sconfia io c'ho caldo d'accordo e te lo sta fresco evidente o no? Cioè c'è sempre più facile e più difficile ora vedete perché Gesù dice se tu non prendi la croce non puoi essere un discicolo domani quando non metterò la seconda lettura vedremo che ci sono le croce si possono distinguere le croce necessarie e le croce facoltative d'accordo? le croce necessarie noi ce ne abbiamo due guardate che queste non può dare la dispezza a nessuno solo il padre non potrebbe fare uno è l'osservanza della legge di Dio qua non so c'è un dato di preghi che parlano di persone in pubblico in privato d'accordo? e dal polpito dal confessionale dal dialogo se io ti dico sta attento fratello mio questa cosa è peccato io non è che te lo dico perché me lo sono inventato io te lo dico perché di quella cosa sono certo sicuro ma come disse Santa Bernadette a Lourdes lo sapete Santa Bernadette a Lourdes riceve l'apparizione della Madonna il padre della chiesa e dopo di che riparla e poi sapete che molta gente diceva ma che mi dice io non c'è me sapete che rispondeva Santa Bernadette a me la Madonna mi ha dubitato non di farvelo potrete io da qui come sacerdote per il bene delle vostre anime di qualunque anime che se uno vi mettesse davanti anche extra barocchiale io devo dirlo fratello mio sorella mia se fai questa cosa offendi Dio e fai del male a te questo significa essere peccato se tu dici e chi ha detto che questo è peccato mi metto certamente a litigare con te però sta attento che quella cosa offende Dio e il male a te cioè capite l'altro giorno stavo parlando con una persona a me cara e scherzavo con questo mondo dice ma la Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza giusto? ecco ma sapete oggi che succede? allora questo è bellissimo che l'uomo si crea un Dio a propria immagine e somiglianza cioè io non apro il cuore all'ascolto di ciò che Dio vuole ma io presto a Dio la mia capoccia quindi se io non c'ero di un niente di male questa cosa non è male e chi l'ha detto che se tu non c'ero di un niente di male questa cosa non è male? chi l'ha detto questo? dove si è scritto? vi ricordate Papa Benedetto che bello che ci abbiamo i papi sono tutti quanti diversi no? Francesco c'era le sue grandi virtù Benedetto su una realtà vi ricordate Benedetto una fissazione di Papa Benedetto che diceva sempre questa parola un po' difficile da capire no? il relativismo lui combatteva sempre la nostra sapete che significa il relativismo? il relativismo è quello che tutti quanti pensano d'accordo? e che riprende un'antica corrente filosofica che è defasta proprio della scuola somistica perché si ha un po' di filosofia d'accordo? Gorgia e Potagora dicevano allora le ovi di Ovi sono tutti uguali d'accordo? io penso una cosa tu ne pensi un'altra tu ne pensi un'altra e tu ne pensi un'altra ci rispettiamo reciprocamente e siamo un uomo libero di avere la gloria siamo d'accordo con questa cosa? allora la risposta è sì e no sì nel senso che non possiamo imporre la nostra idea a nessuno non possiamo violentare la coscienza di nessuno e dobbiamo dare a tutti quanti il tempo di riflettere e di maturare però no su un altro punto di vista perché la verità non è un'opinione non ci sono centomila verità d'accordo ma la verità è una mi fanno come ho fatto prima usare la sessualità fuori del matrimonio è bene o male? è bene o male? o è bene o è male? ma io penso che non ci sia niente di male benissimo ma da un punto di vista oggettivo è bene o male? noi non possiamo stare dentro una chiesa cattolica e dire allora però non ci vedo niente di male non possiamo né tanto che non è andato a fare la comunione rispettabilissima la tua idea d'accordo? ma se stai in questa condizione tu non ti puoi andare a confessare perché non riconosci il peccato come il peccato non può essere dimentito non puoi fare la comunione e c'è anche qualche problema di appartenenza della chiesa perché la chiesa ha un cosiddetto deposito della fede io non posso dire io sto nella chiesa però che la Madonna è assunta in cielo io non ci vedo abbiamo questeggiato il 15 di agosto non c'è è rispettabilissimo che tu non ci credi capite bene quello che sto dicendo ma se non ci credi tu non stai comuni con la chiesa cioè capito non puoi dirlo come membro della chiesa se tu sei un ateo un malico ma c'è un padronissimo ma attenzione anche se tu non ci credi la Madonna dove sta secondo voi la Madonna sta assunta in cielo capite anche se tu non ci credi quindi il fatto che le opinioni siano tutte rispettabili non vuol dire il fatto che siano tutte vere ed ecco la prima dimissione della croce capite c'è una cosa che non capisci sacrificio della ragione c'è una cosa che non ti sta bene sacrificio della volontà ti la chiedi e accendi la legge del Signore c'è una cosa che fai fatica a mettere in pratica ti sforzi se la legge di Dio e poi c'è un altro aspetto della croce processale e concludo quindi la prima è la legge di Dio e la verità che ci obbliga diciamo in coscienza anche a cambiare il modo di pensare chi vorrà salvare la propria vita il proprio modo di pensare e chi la perderà chi l'ha perduta per amore mio la troverà e la seconda cosa sono le croce che ci mettono davanti alla vita le persone che ti sono vicine moriranno d'accordo sicuramente qualcuno morirà prima del 100% le malattie possono arrivare le disgrazie possono arrivare se l'estate ci arriva un caldo pazzesco come st'estate ti puoi salvare se sei un conduzionatore dentro casa fino a quando sei dentro casa ma se esci un po' di rubini d'accordo per forza non ci si può fare niente capite e le cose più grandi che vediamo che stanno cadendo facendo non ci si può fare niente capite la legge di Dio e le disgrazie della vita ci adoccheranno a tutti quanti quindi o uno ci fa pace con la croce e si lascia al maestrale del Vangelo e la vive cristianamente cioè come strumento di salvezza dopo il peccato oppure uno ci fa la guerra ma se ci fa la guerra soffre ancora di più perde l'opportunità di salvezza e mette anche al repentaglio la propria anima chi vorrà salvare la propria vita la perderà che giova al mondo o la tende anche giova al mondo in intero si perde la propria anima sono parole di Gesù chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti fin da questa messa a riflettere e a comprendere questo primo livello del senso della voce quello che il Signore ci mette davanti come un cammino necessario di santificazione per la salvezza della nostra vita siamo notati Gesù e Maria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti